Ciao a tutti appassionati di anime e manga sono Alex come sempre il video è sempre qui su youtube, su instagram, su twitch e anche nel mio gruppo telega per stare sempre ragionati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare una recensione di 17 anni, Eito da J-pop, prezzo 6,90€, è uscito il cofanetto con tutti e quattro i volumi, tratto da una storia vera, di una storia di cronaca nera che ha scosso il Giappone nel 1988, davvero molto forte, è un manga forte, ti colpisce come un pugno, uno stomaco, proprio perché sai tra l'altro che è una storia vera. Il manga inizia con Iroki che è il protagonista, questo ragazzo che otto anni dopo va a vedere ciò che resta di una determinata casa in cui sono successe parecchie cose brutte. Adesso vedremo, infatti c'è questo flashback di ricordi. Lui, Iroki, io ragazzi di 17 anni con il suo amico Takashi, vengono presi di mira da un gruppo di bulletti e compare Miyamoto, un loro senpai, che adesso non frequenta più quelli che lo frequentava, che li difende e gli dice ok adesso li prendo sotto la mia protettice, mi seguite e dovete fare tutto quello che vi dico io. E' molto cattivo diciamo come persona, gli obbliga quasi a rubare, ma la cosa più tragica è che Miyamoto con Iroki che è il protagonista, perché Takashi non ce l'ha posto in macchia e quindi non è potuto venire, decide di andare a Chiba per abbordare, per rimorchiare una ragazza. Quindi la prima va male, non riescono, e la seconda riescono a rapirla letteralmente, praticamente a rapirla, andare a una casa di uno degli altri della banda e lì cominceranno a vessarla e a fargli tutto stupri, torture, la lasceranno denutrita, cioè non gli daranno mai da mangiare, i bisogni se li farà addosso, i suoi bisogni. Quindi anche lei, questa ragazza che è Saccico, ha 17 anni, ricordo che è tratto tutto da una storia realmente accaduta, e già lì Iroki incomincia a capire che sta succedendo qualcosa che non dovrebbe succedere. aveva la possibilità di salvarla perché stava scappando, si era nascosta in una fabbrica, l'ha vista, l'ha trovata, poteva stare zitto e invece per paura, perché non aveva la forza di rifiutare, di negare, ha rivelato la sua posizione. Lui non ha mai partecipato né agli stupri, né alle torture, né niente, ha solo visto, ha dato una mano a rapirla, ma ovviamente è colpevole anche lui perché è sempre stato zitto. Tra l'altro la sua sorella gemella di Saccico, Miki, frequenta il suo stesso liceo. Quindi quando la vede a scuola, resta spiazzato, sbianca, la sorella all'inizio non capisce perché e la sorella, che è l'unica che cerca di scoprire cosa è accaduto a Saccico, si impegna perché la polizia all'inizio non fa quasi nulla, gli adulti non si impegnano neanche più di tanto perché credono che sia semplicemente scappata di casa, come capita spesso a molti ragazzi di 17 anni, lei è l'unica che percepisce che è successo qualcosa su sua sorella e quindi si darà da fare per appunto trovarla. Ovviamente questa prigionia dura più di nove giorni, non solo la loro banda, la stupro notturno, ma anche tutte le persone che entrano in quella casa, che sanno questa cosa, la stupideranno. I genitori di questo ragazzo fanno quasi finta niente perché non vogliono mettersi contro il proprio figlio, preferiscono far finta di non aver visto nulla. E qua c'è proprio il senso soprattutto di Iroki, di vergogna, ma di colpa, di paura, davvero un turbinio di sentimenti che percorre Iroki, ma ovviamente anche Saccico. Non è visto dalla parte della ragazza questo manga, perché probabilmente è davvero forte. Posso solo immaginare cosa posso passare a una ragazza, perché è qualcosa di davvero forte. Io posso vedere solo, non essendo una ragazza, quindi a pieno non posso capirlo, però è davvero qualcosa di forte, che ti prende molto questo manga. E ripeto, essendo un fatto che è realmente successo di ragazzi di 17 anni, fa capire che stiamo degenerando. Anche adesso nelle cronache in Italia si vede la degenerazione, magari non proprio a questi livelli di rapirla per 9 giorni, però è vero che anche adesso le nuove generazioni stanno degenerando. Non tutti ovviamente, però la maggior parte sì. Complice probabilmente che i genitori non hanno le palle, o la voglia, o il tempo di stare dietro ai propri figli. Gli istituti con la scuola preferiscono non sobbaccarsi queste problematiche per evitare problemi, anche perché comunque gli insegnanti almeno in Italia sono pagati niente, prendo di più io probabilmente degli insegnanti, e quindi perché mi devo impegnare, rischiare magari anche di prenderle, o prendere questo impegno extrascolastico. Chi me lo fa fare? E quindi è una conseguenza di azioni che porta a degenerare i nuovi giovani. Però ripeto, è un manga davvero forte questo, quindi vi invito a seguirlo solo se siete preparati, perché non solo immagini, c'è qualche immagine molto forte, tra l'altro non ho detto che Miyamoto e il suo gruppo avranno commesso un omicidio, non vi dico di chi perché è un personaggio, perché sarebbe spoiler, però commettono anche un omicidio, anche lì Iroki non partecipa, arriva quando ormai è successo, però aiuta a occultare il cadavere. Quindi, oltre a tutto ciò, c'è anche qualcos'altro, c'è qualcosa di davvero malato in questi giovani, che lo fanno più che altro per divertimento, perché si annoiano, non hanno lavoro, fanno i mantenuti dai genitori e non hanno voglia di impegnarsi. Quindi è tutta una serie di problematiche, la società, i genitori, la scuola, ovviamente loro stessi, beh, in primis, è colpa loro di se stessi, però Miyamoto fino alla fine non si pentirà mai di ciò che ha fatto, almeno questo manga, poi non so se negli anni si è pentito, ovviamente non so neanche se i nomi, ma probabilmente penso di no, non siano i nomi reali, non potrebbe farlo, sono nomi comunque di fantasia, perché non penso che possa farlo legalmente, mettere i nomi. Poi, ripeto, sono immagini molto forti, ti danno modo di pensare, di riflettere, ed è molte scene su un pugno nello stomaco, e quindi invito la lettura se siete preparati. Comunque, è un manga che secondo me devono leggere tutti, se avessi 16 anni fosse la cosa migliore, solo che, ripeto, è forte, quindi magari, ma anche se i giovani di oggi sono abbastanza forti rispetto a quel passato, però letto da un giovane ti segna molto di più, ti fa pensare prima di agire e cercare di capire le conseguenze, non che loro non lo sapessero, sapevano benissimo cosa andavano incontro, ma se ne fregavano. Iroki, infatti, lo sa benissimo che è una cavolata, una cazzata, e si caga addosso dall'inizio alla fine, ma più per la ragazza pure di essere preso, di essere portato in prigione o di avere la pena di morte, perché in Giappone c'è ancora la pena di morte, e quindi, più che per la ragazza, si limitano, beh, dice, se avrei voluto evitarla, però non ho avuto la forza, non ho avuto il coraggio di farlo, e probabilmente questo senso di colpa se lo porterà dietro per tutta la vita, ovviamente la ragazza Saccico avrà la vita rovinata, non so se si riuscirà a fidarsi ancora degli uomini, quindi, davvero un dramma nel dramma, perché ha la vita rovinata, spezzata, non di una sola persona, ma di molte persone, perché anche i genitori di quei ragazzi si sono dovuti trasferire, perché ovviamente i vicini li dittavano come demoni, eccetera, eccetera, quindi si sono dovuti scappare, hanno dovuto magari cambiare il nome, quindi molte vite rovinate per divertirsi una sera, divertimento ovviamente sbagliato, io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video, è piaciuto, io vi ringrazio, ecco be passedo, ogni giorno,